Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi con l'Avvocato Garisto parleremo ancora una volta di infortuni sul lavoro. Cercheremo di chiarire che cosa dice la legge in caso di comportamento colpevole, parziale o totale da parte del lavoratore. Buonasera, la scorsa puntata abbiamo parlato in generale degli infortuni sul lavoro e sempre a proposito di questo argomento mi preme parlarvi anche di un aspetto particolare che si può verificare quando avviene un infortunio sul lavoro, ovvero l'ipotesi sia pure remota ma che ci sia una corresponsabilità o una totale responsabilità del lavoratore. Ma attenzione, partiamo da un esempio molto pratico che è una vicenda di cui mi sono occupata dal punto di vista professionale, un processo di cui mi sono occupata personalmente, che è molto esemplare insomma di questa ipotesi. Si tratta di un lavoratore che è stato applicato a un macchinario e senza conoscerne in particolare le caratteristiche, senza aver avuto una formazione specifica per l'utilizzo di quel macchinario, se non quelle informazioni che servono più al datore, all'azienda per velocizzare la produzione che non a tutelare il lavoratore dal rischio di farsi del male. In questo caso il lavoratore ha perso due dita della mano destra mentre operava proprio su questo macchinario. Il caso ha voluto che nei giorni immediatamente successivi all'infortunio, quando il lavoratore si trovava ricoverato in ospedale anche sotto morfina per il dolore, per sollevarlo dal dolore fisico che l'infortunio, come conseguenza dell'infortunio, riceve il responsabile di reparto il quale lo convince in qualche modo, conversando con lui, della sua responsabilità nell'utilizzo, nel cattivo utilizzo secondo il responsabile del macchinario stesso. Ovvio che se il lavoratore ha delle istruzioni molto precise e viola le istruzioni date, questo può, potrebbe in astratto comportare anche una sua corresponsabilità. Ma le condizioni, non è un'anomalia, cioè succede spesso che quando il lavoratore nell'immediatezza, subito dopo l'infortunio, quando è più concentrato sul suo dolore che non sulla tutela dei suoi interessi, vengano, non posso dire estorte, ma sicuramente venga indotto a fare delle ammissioni, in un certo senso, che comportino una propria responsabilità. E che cosa avviene? Quindi subito dopo aver fatto questa conversazione, non subito dopo, ma nei giorni seguenti, quando esce dall'ospedale, gli viene sottoposto un verbale da sottoscrivere in cui, sostanzialmente, in sede sindacale peraltro, in cui si assume la responsabilità è addirittura viene colpito da un'infrazione, cioè gli viene combinata un'infrazione di una sospensione, se ben ricordo, di un giorno dovuta proprio alla sua propria mancanza. Però è anche vero, e non possiamo dimenticarcelo, che la giurisprudenza ritiene che ci possa, cioè che la responsabilità o corresponsabilità del lavoratore esonera il datore di lavoro dalla responsabilità dell'infortunio solo ed esclusivamente, qualora l'azione del lavoratore sia abnorme, ovvero assolutamente imprevedibile e contraria a tutte le istruzioni. Nel senso che il datore di lavoro non può andare presente da responsabilità, neanche qualora ci sia una colpa del dipendente, poiché le norme di sicurezza sul lavoro imposte all'azienda sono fatte anche proprio a prevenire la distrazione del lavoratore. Quindi concludendo solo ed esclusivamente quando è abnorme il comportamento del lavoratore si può ritenere che il datore di lavoro sia esente della responsabilità, perché ipotesi effettivamente molto rara, perché normalmente il lavoratore tende forse ad avere anche delle distrazioni che devono essere considerate dall'azienda, ma escludo ed è del tutto raro che il dipendente assuma iniziative riguardo a per esempio all'uso di un macchinario del tutto contrarie e anomale rispetto a quelle che è il corretto uso. Quindi attenzione alle proprie responsabilità che ci sono oggettivamente, ma attenzione altrettanto ad evitare di assumersi responsabilità senza considerare che il vero responsabile è il datore di lavoro, quindi l'azienda, che deve porre in essere tutte le misure possibili ad evitare e a prevenire anche la distrazione del dipendente. Grazie, buonasera. La nuova legge di bilancio del 2019 introduce la flat tax, oggi è ancora poco chiara. Abbiamo chiesto all'avvocato Pollastro di spiegarci meglio questa nuova manovra. Buonasera. Molto si discute, uno appena televisione e soprattutto i telegiornali e quant'altro e si sentono discussioni, dibattiti e quant'altro e spesso esistono dei riferimenti, delle parole, delle discussioni o argomenti di cui tutti dicono ah sì quella cosa lì, ma poi quella cosa lì si sa cos'è. Ad esempio da un po' di tempo si sente parlare di flat tax e ho capito però per riuscire ad esprimere anche solo a seguire il dibattito, quantomeno occorre capire e sapere che cosa è questa flat tax. È un argomento un po' fuori dai solidi che io seguo, come sapete chi mi segue sa che io mi affronto soprattutto problemi legati al mondo del lavoro o problemi legati in qualche modo vicini al mondo del lavoro, come ad esempio i problemi di natura previdenziale. Questa materia in termini fiscali che attraversa tutti i cittadini italiani, in effetti non è esplicitamente solo per un problema di lavoro, ma riguarda anche direttamente i lavoratori e quindi è importante quantomeno sapere di cosa stiamo parlando, dopodiché uno esprime le valutazioni, i pareri, si formano opinioni personali con una solidità almeno di cosa stiamo discutendo. Allora, col tema del flat tax, no anzi faccio un passo indietro, il nostro sistema di tasse è un sistema di tipo progressivo, cioè tanto più uno ha un reddito, il livello di aliquota fiscale che viene applicata sui renditi più alti aumenta, voi mi direte, certo se io guadagno 10 avrò, pago una somma, se guadagno 100 pago di più, attenzione, non è semplicemente una questione di percentuale, è una questione di aumento dell'aliquota percentuale, per cui tanto più il cittadino, il contribuente riceve somme, tanto più c'è un meccanismo di progressione delle aliquote fiscali. Attenzione, non è che se, come uno dice, ah ma io ho superato lo scaglione, a questo punto non è più il 23%, è il 27% su tutto, no, ciascuno paga le tasse in funzione fino a una certa somma a quella percentuale, oltre quella somma la percentuale superiore, oltre quella somma la percentuale superiore, quindi c'è un meccanismo di progressione. Cos'è la flat tax? La flat tax è un meccanismo molto semplice, molto secco, in cui tutti pagano una stessa aliquota fiscale. Certo, chi pagherà, qualgarà molto, pagherà di più, perché l'aliquota è sempre la stessa, ma se il 15% si discute, su 100 mila Euro è evidentemente 15 mila Euro, su 1000 Euro è evidentemente molto meno, su 10 mila Euro è evidentemente molto meno, ma il meccanismo è un meccanismo di tassa uguale per tutte come aliquota. Qualcuno dice, sì ma questo contrasta con un principio costituzionale di progressività. La progressività, quindi per incidere un po' di più sui lavoratori che hanno, sui lavoratori, sui cittadini che hanno più renditi rispetto a quelli che hanno meno renditi, viene fatta attraverso una correzione di abbattimenti sui livelli imponibili. In buona sostanza si dice che coloro che guadagnano fino a un certo periodo, li verranno detratte una certa quota di imponibile per determinare un meccanismo di progressione, ma il principio di fondo della flat tax al di là del meccanismo concreto con cui viene applicata è essenzialmente quella di prevedere un meccanismo di aliquota fiscale uguale per tutti, la cosiddetta tassa piatta. Tanto per parlarci, chiaro, qualcuno sostiene l'utilità, molti sostengono l'utilità di questa tassa essenzialmente per due ragioni, innanzitutto per un motivo di chiarezza, di semplicità, questo meccanismo determina sicuramente un meccanismo molto più agevole di applicazione delle tasse e nello stesso tempo anche un meccanismo di liberazione in dubbia di risorse, questo determina una riduzione del livello complessivo di trassazione e una liberazione di risorse a vantaggio dei cittadini, a vantaggio delle imprese e quant'altro. Si dice anche che dovrebbe ridurre l'evasione fiscale, questo francamente io non ho capito per quale motivo dovrebbe ridurre l'evasione fiscale, perché se c'è l'evasione tale rimane, però c'è un meccanismo oggettivo di aumento del reddito, circolante del reddito disponibile. Chi è contrario sostiene che questo meccanismo di fatto riduce le tasse aumentando i problemi di bilancio dello Stato e che di fatto diventa un meccanismo premiante, soprattutto per i redditi maggiori e più alti e in qualche modo punitivo per i redditi più bassi e cittadini che guadagnano meno. A questo punto possiamo seguire il dibattito, capire almeno di come se ne sta discutendo e capire in modo particolare come venga concretamente applicata al fine di incidere un po' di più sui redditi più alti e incidere un po' di meno sui redditi più bassi. Grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Noi ci vediamo alla prossima puntata.